Il mondo ha bisogno di pace, supplica Francesco. Soprattutto in questa drammatica ora della nostra storia, mentre i venti della guerra e dei focchi della violenza continuano a sconvolgere interi popoli e nazioni. Pace sarà anche l'invocazione al cielo domenica dalla Basilica Romana di Santa Maria Maggiore, dove Francesco andrà a recitare un rosario con questa intenzione. Poi lunedì prossimo, 7 ottobre, Chiedo a tutti di vivere una giornata di preghiera di Dicuno per la pace del mondo. Annuncio dato oggi da lui stesso ai rappresentanti delle chiese del mondo intero, i quasi 400 membri del sinodo riuniti a Roma per l'assemblea sinodale iniziata con la messa stamattina a San Pietro. Si parlerà di chiesa e sinodalità, ma non, avverte Francesco, in dialoghi fra sordi, maggioranza e minoranza, tirando ognuno l'acqua al suo mulino. La nostra non è un'assemblea parlamentare. E allora aggiunge, badiamo a non trasformare i nostri contributi in puntigli da difendere o agende da imporre. Si tratta piuttosto di essere aperti nel pensare e salti nella fede con umiltà. Il più alto nella chiesa è quello che si abbassa di più.